Arrivano partecipanti di concorso a Festival di Benefes Hanno svuotto un concorso martedì, mercoledì o lunedì, martedì e io ho avuto l'onore di essere in giuria vi posso assicurare che vi aspetto a uno spettacolo particolare che di solito non si vede da noi secondo me quindi vi ringraziamo e ringraziamo a tutti inizio del programma gruppo di danza indiana Lila Prem danza Krishna Knavit Grazie a tutti 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 Grazie a tutti